da dove nasce karate ci sono diverse risposte partiamo dalle reference partiamo dalle reference allora la prima reference in assoluto e questa credo che sia anche facile da intuire è ovviamente karate kid daniel san e il ben amato maestro miaghi che tutti quanti amiamo e adoriamo guarda che guardo sorgnone ovviamente questo più di tutti secondo me incarna quel tipo di immaginario da cui sono andato a ripescare anche in maniera inconscia nel senso non ho cercato di immaginare effettivamente questo scenario ma questo è forse lo scenario e l'immaginario più forte che mi sono portato da ragazzino da quando ero ragazzino fino ad oggi ovviamente oggi ci hanno messo anche il carico da 90 uscendo con cobra kai la serie su netflix che devo dire ho visto ho visto le prime due stagioni poi non ce l'ho più fatta ma anche da immaginari come kill bill dove uma turman viene svezzata all'arte del kung fu da pai mei anche se qui siamo credo in cina sembra abbastanza cinese più che giapponese nel look però c'è sempre quel tipo di immaginario un altro film che ho visto recentemente che vi straconsiglio e che non conosce nessuno è l'arte della difesa personale questo film un capolavoro era su netflix purtroppo l'hanno tolto da poco non si trova piratato si trova in streaming io sto pensando di comprarlo perché è una dark comedy fotonica è veramente fotonica e c'è tutto questo stereotipo del maestro dell'allievo delle tecniche oscure e ci sono anche altre cose che non voglio spoilerarvi e questo sicuramente ha riacceso anche me la fiammella altre reference con cui sono cresciuto e cui parliamo di anni 2000 un film come confusion ok kung fu però in generale l'esasperazione in questo caso comico demenziale di quella che è l'arte del combattimento ma mi sono segnato anche altre reference ovvero sia tutti i film di bruce lee perché non so se lo sapete ma la mia più grande fissa quando ero ragazzino era quella di andare in cina e diventare un monaco shaolin o comunque diventare un potentissimo guerriero di kung fu e avevo anche un mio carissimo amico cingè tuttora mio caro amico che mi prendeva per il culo e mi aveva convinto che in cina tutti conoscessero il kung fu e io gli credevo perché che cacchio ne so quindi mi sono visto ovviamente tutti i film di bruce lee quando ero ragazzino più e più volte avevo le videocassette li ho adorati ho sognato e sono arrivato a ricordarmi anche che nel film l'urlo di chen terrorizza l'occidente c'è bruce lee che combatte con il suo che non è esattamente kung fu non ricordo come si chiama la tecnica che poi ha inventato lui la sua tecnica si scontra contro il karate di chuck norris al colosseo chuck norris che era veramente un combattente di karate ha combattuto veramente al colosseo dentro al colosseo con bruce lee quindi anche tutto quell'immaginario di chuck norris e walker texas ranger quell'uomo invincibile che risolve tutto con la potenza dei piedi piedi inseriti in degli stivali ci mancherebbe e pugni altro immaginario molto forte per me tutto quello di van damme che risolveva tutto urlando a pugni e con le sue famigerate spaccate qui vediamo van damme che spacca che spacca tra due camion ma senza dimenticarci ovviamente di tutto quel mondo che può essere dragon ball piuttosto che kenshiro piuttosto che ranno a un mezzo cose che mi hanno svezzato vi dico anche una cosa sul ranno a un mezzo mia madre me l'ha vietata una certa perché mi sono quasi fratturato una mano cercando di far esplodere il muro di camera mia copiando una tecnica che baba aveva insegnato a rioga per far esplodere i macigni con un solo dito io cercavo di fare la stessa cosa col pugno e mi sono quasi fratturato una mano cioè continuava a dare pugni ma l'avrò fatto non lo so per mezz'ora avevo una mano viola gigante questo diciamo è l'immaginario da cui sono andato a pescare nel momento in cui ha preso forma karate nella mia testa ovvero sia ci deve essere un maestro ci deve essere un allievo ci deve essere questo bisogno di superare delle difficoltà quindi in questo caso il nemico era la vita che è più potente del drago e della spada e questo maestro un po criptico che ti spiega le cose e comunque sai togli la cera metti la cera alla fine della fiera in qualche modo passa dall'umiliazione inizialmente l'insegnamento e quindi questo calcio che mi arriva dritto in bocca dal mio maestro è stato piacevole perché finalmente ho preso tutto quello che da bambino mi ha traviato perché ovviamente queste cose mi hanno anche traviato perché mi hanno anche dato un contesto ipermacista del guerriero infallibile però ho preso tutte queste cose esasperate e le ho inglobate in questa canzone ma andiamo a vedere un secondo il testo perché magari c'è qualcosa di interessante anche nel testo che forse qualcuno di voi non ha colto che forse qualcuno di voi non ha capito o che forse avete capito e avete colto ma in generale ci tengo a ripetervelo per bene lo prendo subito allora siamo qui e qui e qui tac ve lo zoom anche eccoci qui sì qui allora questo che vedete è il file originale non su cui ho scritto il testo ma dove l'ho registrato infatti vedete anche delle delle tracce gialle che sono le parti che avrebbe dovuto fare il maestro quelle bianche quelle dell'allievo in realtà qui ha segnato anche nella versione originale che adesso vi faccio vedere e qui ho messo un monte fuji a caso perché mi sembrava abbastanza evocativo già che dovevo registrare perché questo è il file che tenevo davanti quando dovevo registrare ok adesso lo zoomiamo per bene inizio a dir poco epico io sono veramente orgoglioso di come inizia ci fu un tempo in cui un uomo più saggio di me mi rivelò una grande verità quindi già qui epicità a manetta avere sario più temibile der drago e dera spada è la vita mudimbi san sono stato felice quando l'ho scritto fino a qui diciamo non c'è niente da dire del drago e della spada è stato un piccolo tocco di classe mi faccio complimenti da solo questa è la rubrica in cui mudimbi si complimenta con mudimbi come combatto quello che non vedo chiesi lui mi rispose con i piedi ecco di nuovo chuck norris c'è stato un periodo in cui giravano anche potentissimi i meme testuali su chuck norris prima che esistessero i meme e come chuck norris risolveva tutto con la sua potenza con i suoi piedi con i suoi pugni e questo in realtà ricalca proprio quello ovvero sia come combatto quello che non vedo cioè mi aspettavo qualcosa sull'interiorità sulla meditazione no con i piedi lo devi prendere a calcio in culo quello che non vedi poi alzo una gamba al cielo contando fino a tre e mi diede un calcio in bocca cara te allora ammetto che qui quando ho scritto contando fino a tre ho detto boh forse è banale forse dovrei fare una roba cioè dovrei trovare un altro tipo di rima proprio anche pensato fra te ti stai preoccupando di cose superfle cioè tu qui stai portando un messaggio non devi stare a guardare queste inezie quindi mega drop dopodiché picchiaduro è più del wasabi qui mi sono preso la licenza poetica di spostare l'accento ma che piano b wannabe questo se qualcuno non avesse capito mi inizia a far venire dei dubbi visto che l'altra volta mi avete chiesto perché a pezzi come una mandibola me l'hanno chiesto più persone ovviamente forse è il caso di spiegare tutto un po più nel dettaglio quindi picchiaduro più del wasabi del wasabi perché il wasabi che a me fa veramente schifo cioè per me non picchia duro però ha un sapore molto forte e quindi in quel senso picchia duro ma che piano b wannabe significa non c'è nessun piano b ci sarà solo un piano a perché il piano b è per i perdenti il piano b è l'alternativa anche michael jordan disse non devi mai avere un piano b perché il piano b ti distoglie dal piano a wannabe il significato di wannabe credo che sia abbastanza universale qui mi sto rivolgendo a qualcuno che ambisce ad essere però effettivamente forse non non ci crede abbastanza che forse non ci arriverà veramente mai perché vorrebbe solo ma non né all'altezza uno skywalker come anakin mai visto star wars no forse una volta però star wars chi è che non la conosce chi è che non conosce anakin skywalker ed effettivamente lì c'è già una grossa referenza a quello che è l'immaginario di narrazioni molto più orientali ovvero sia il maestro yoda che addirittura appare nel momento in cui gli torna in mente il consiglio che gli aveva dato non lo so sta andando a braccio però ho in mente proprio questa immagine del maestro yoda in trasparenza che parlando come parla lui tutto quanto strano ripete delle parole appunto ad anakin skywalker anzi no a luke skywalker in quel caso guarda il mio karate viene da te preparati adoro il fatto che il mio karate abbia preso vita abbia sia impersonificato cioè sia proprio un'entità che sta venendo da te qui preparati non sono nemmeno io che ti picchio va al di là di me il mio karate il mio karate viene lì e ti spacca il culo a prescindere da me inesorabile non vuoi soffrire sparati molto semplicemente cioè perché io ti massacrerò con i miei piedi quindi soffri di meno se ti spari whatta calci volanti in faccia legatemi le braccia ti pesto con i piedi cucaraccia che non c'entra niente cucaraccia come come reference però dal momento che questa canzone è una cozzaglia di cose messe insieme ovviamente ci stava benissimo dopodiché come vedete questa parte inizialmente doveva essere fatta dal maestro perché leggendole scrivendolo questo testo avevo lasciato una mia interpretazione abbastanza libera nel senso che potevano essere due personaggi maestro e allievo poteva essere maestro e allievo ma tutto sommato soprattutto era la voce narrante che stava raccontando quindi c'erano dei virgolettati però c'era in realtà anche la voce narrante che ti raccontava la cosa sopra le parti inizialmente avevo pensato effettivamente di farla fare tutto quanto al maestro poi però anche con nibius ci siamo accorti che era infattibile cioè c'era la metrica c'erano un tot di robe troppo complesse e quindi nella mia testa me la sono raccontata diversamente irta di pericoli è la strada di ogni condottiero ma tu non perdere il sentiero ascolta il tuo cuore sai che il vero riconosce il vero e stamano può essere piuma o può essere vero allora qui colgo la palla al balzo perché mia madre mi ha detto io non capisco che cosa dice in quella parte credevo che fosse universalmente conosciuto ma vi presento mario brega soralella e questa è l'origine da cui arriva appunto quel quel modo di dire lo strumento ma che sei fatto con ste mani ma che stai scherzando ah aspetta un attimo ah mimmo è si buono fio mio questa è un signora che c'ha competenza non lo vedi competenza 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 di che è un camionistice ma i camionisti so bravi io mi ricordo facevo amore con un camionista la tanto buono e bravo e poi questo sai che ti dico stato fatto tutto e poi mi soltupano vabbè fatti inizioni tagli oh che tu riesci a bottiglietta così fai qualche cosa ma insomma me la fa o non me la fatti inizioni la signora è fatta gliel'ho fatta t'ha fatto male ma se questo c'è la mano che è una piuma e questo era mario brega con questa citazione tra l'altro mi sono accorto l'ho cantata poi a loro a fiodor swan ci ho fatto caso dopo che avrei potuto anche scrivere ma sarei andato veramente troppo oltre irta di pericolo è la strada di ogni condottiero ma tu non perdere il sentiero ascolta il tuo cuore sai che il vero riconosce il vero e stamano può essere piuma può essere fero tratto ogni avversario con rispetto strappa il cuore dal petto e conservalo con cura in una teca perché tu sei l'eletto cadi in ginocchio soltanto a cospetto della sacra via di mario brega questa è una cosa che vi canto con tutto il cuore in onore a mario brega soralella e verdone comunque da qui arriva quella citazione tratto ogni avversario con rispetto strappa il cuore dal petto e conservalo con cura in una teca allora ci sono diverse immagini diversi film che ho in testa anzi più immagini perché non le riconduco esattamente a dei film in particolare questa cosa di strappare il cuore probabilmente anche cartoni animati ma c'è un'immagine in particolare che avevo molto chiara ma non ricordavo dove l'avessi vista quindi ho sentito il mio amico victor bomì e glielo ho descritta c'è questa situazione credo che fosse un sogno il tipo era a cena con una tipa viene importunata papà succede questo quell'altra e victor bomì mi dice bro mi ricordo benissimo di dove è questa citazione e ve la faccio vedere è Ah! 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 What? Ah! Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Ecco, è esattamente da qui che mi è venuta in mente questa cosa. Ricordavo che qualcuno strappava il cuore a qualcun altro e poi lo metteva in una doggy bag. Ho semplicemente sostituito la doggy bag con una teca, che è qualcosa di più nobile, che si addice meglio ad un karateka, però arriva esattamente da Jim Carrey in Scemo e più Scemo. Perché tu sei l'eletto, cadi in ginocchio soltanto a cospetto della sacra via del karateka. Cosa interessante, non vi faccio vedere il video, ma ve lo racconto. Sarebbe dovuto essere, potuto essere, soltanto al cospetto. Non riesco a pronunciare al cospetto in velocità. Avevo un video in cui, mentre registravo, continuavo a ripetere al cospetto, al cospetto, al cospetto, al cospetto. Poi una certa inizia di al kogan. Ah, vedi, al kogan lo riesca a di... perché non riesca a di al cospetto? Vedi? Una persona mi ha detto che non ha apprezzato... Ha detto, guarda, piccola critica, cioè, si annovera tra le persone iperfan. Quindi me lo scrive in direct. Non ho apprezzato questa cosa che ripeti di nuovo la parte di Nibius e ci fu un tempo in cui... L'effetto di questa cosa è un po' come... Fai conto, allora, non so, poesie o nei racconti, cioè comunque ce l'ho molto più presente nella parola scritta, tipo, era una mattina come un'altra, tutto andava bene, il tempo scorreva, lei mi guardò, era una mattina come un'altra e tutto stava per andare a puttane, ok? Cioè, il ripetere che ti riporta un po' all'inizio di quello che hai detto, ma ti fa vedere un'altra prospettiva. Ve lo spiego perché magari a qualcuno interessa. Dal momento che questa canzone non la definirei proprio una canzone, quindi non definirei questo un bridge, sai, si ripete perché prima del ritornello. È proprio ai fini della narrazione, mi piaceva riportare all'inizio la sensazione iniziale, ma dando una chiusa diversa. Fu così che la mia gamba... Io quando ho scritto sta cosa ho detto, secondo me se lo scrive una cazzata, però vabbè, mi fa ridere sta canzone, quindi che devo fare? Fu così che la mia gamba, elevata verso il sole, pronta per il calcio del dragone, entro in bocca al mio sensei, vendicando a me l'onore. Anche qui, vendicando a me l'onore, ma avrei potuto... Ho cercato diverse forme, dico, boh, non è super italiana, come cosa? Proprio ho anche pensato, sì, ma stai parlando in una maniera molto solenne, stai cercando di parlare comunque sia con una solennità quasi non italiana, quindi vai tranquillo, vendicando a me l'onore. Karate, fine. Ma come nasce Karate? Scopriamolo subito, scopriamolo immediatamente, senza indugi. Boh, boh, boh. Ah, no, devo ridimensionare questo. Forza, aiutami Dio. Credo di avere... Ecco qua, evoluzione del progetto. Intanto mi apro un'altra cosa, quindi questo ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ah, innanzitutto ve lo racconto perché non ci sono video stavolta, cioè non ci sono perlomeno video della creazione, ma il modo in cui è nata, ecco, Karate è la prima, forse, canzone di quelle delle quattro che sono uscite finora, sto cercando di pensare. Sì, sono sicuro al 99,9% che Karate sia la prima canzone scritta tutta quanta in, boh, un'ora. Sono andato a casa di Swan, gli ho fatto sentire quello che adesso vi farò sentire. Gli ho detto, guarda, voglio scrivere una canzone che si chiama Karate, che c'ha sto drop e voglio raccontare una storia sul Karate un po' matta. Quindi lui si è messo a sviluppare l'idea partendo dal memo vocale che vi faccio sentire. Io l'ho scritta lì proprio sul momento, super gasato, perché ovviamente mi divertivo parecchio e quando ti diverti le cose te escono, cioè subito, perché stai in hype e non ti fai nemmeno troppe domande su, boh, forse sta roba dovrebbe fare diversa, scrivi, cioè stai troppo nella wave. E quindi è nata tutta quanta in, sì, credo un'oretta su per giù, cioè scritta più o meno in un'oretta, ci siamo anche molto divertiti a produrla, a mettere calci al posto dei suoni, ma a quello ci arriviamo dopo. Allora, per l'evoluzione del progetto io vi voglio far vedere questo qui, ovvero sia, andando in ordine, questa è... ma nemmeno ve lo dico. Karate. Questo suono è perché mi stavo allenando, è un'app con un timer per scandire, appunto, le riprese del fiato, inizia la serie, bla bla bla, e quindi tra una serie e l'altra si vede che mi è salito sto demone delle botte e ho detto, cazzo, devo fare un pezzo e si ama karate e deve fare così. Poi nel frattempo, però, è partito il gong, ma io non mi sono rimesso a fare l'esercizio che dovevo fare, perché ero molto lanciato su sta cosa. Quindi si sente il televisore, sto gong che va, io che continuo. E va avanti così, se non forse sul finale... aspetta, no, 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 perché... Ho una certa... non lo so, per un mio sollazzo ho detto, vabbè, fammi chiudere una rima con karate, giusto per ricordarmi che devo fare rima. Qui dico bombole. Bevi l'estate. Bevi l'estate. Karate. E così è nata karate. Dopodiché, sempre nello stesso... nella stessa session di allenamento, mi sono subito preso un altro appunto, che in realtà ora farà ridere, ma è qualcosa che poi vi faccio vedere come è tornata. Allora, su karate nel ritornello servono due pausa. Io che parlo a me come se fossi un'altra persona. Una che è... Karate. E l'altra versione è che in quelle pause succede una cosa che faccio. Allora, qui in realtà sto dicendo che il drop non deve essere continuativo, ma ci deve essere una pausa e mezzo. E poi vi faccio sentire esattamente a cosa mi sto riferendo. Dun, dun. Quindi... Ecco, e questo dun, dun, che in realtà è la pausa che si deve ripetere. Cioè la pausa che deve essere riempita da qualcosa. Dun, 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 dun. Karate. No, aspetta. No, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta me stesso. Aspetta, non devo andare. Dun, 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 dun. Karate. Dun, dun, dun. allora questo tum tum e quel vuoto in realtà se andiamo a prendere spotifracchia ve lo faccio anche vedere subito così mi faccio anche uno streaming sulla canzone e va il disco d'oro è sempre più vicino ci fu un tempo in cui un uomo più saggio di me mi rivelò una gr... lui mi rispose questa pausa è esattamente quello che già avevo in mente poi vi faccio anche vedere quando e perché ci abbiamo messo il collo rotto e l'altra cosa l'ha fatta Fyodor senza che glielo dicessi che ha sempre una pausa nel drop però invece di lasciare il vuoto e riempirla solo con quel suonetto perché inizialmente c'era sotto il vuoto poi ci abbiamo messo appunto il suono del collo rotto è questa pausa che avete appena sentito in cui si ferma il kick ma continua il suono quindi in realtà sono tutte minchiate che mi sono puntato ma poi alla fine non ricordandomele perché non ho più sentiti questi vocali sono comunque tornate fuori ma come si è evoluta karate questa è la prima il provino che ho fatto il giorno che l'abbiamo scritta vabbè dai fissiamola in audio così ce la riascoltiamo non ve la faccio sentire tutta ma vi faccio sentire la differenza del drop perché il drop è cambiato diverse volte ci fu un tempo in cui un uomo più saggio di me mi rivelò una grande verità avversario più temibile del drago della spada è la vita mudinbisano come combatto quello che non vedo chiesi lui mi rispose con i piedi poi alzo una gamba al cielo contando fino a tre e mi diedo un calcio allora troppe motoseghe troppo skrillex questa cosa però inizialmente la lasciamo lì io ero quasi convinto nel senso non ho una grandissima opinione al riguardo anche se quello che mi ero immaginato inizialmente era molto più gruvoso molto più basso e molto meno acido però c'era uscito fuori quel suono e l'abbiamo mollato lì io in realtà stavo anche per non riprendere questa cosa proprio perché volevo uscire voglio uscire ogni mese quindi se la cosa mi convince o perlomeno se non ci trovo niente di sbagliato non voglio andare a rimettere mano perché altrimenti potrei perdere un anno su una sola canzone però matteo ha insistito cosa che non mi aspettavo visto che l'idea è venuta soprattutto da lui per questo suono l'ha scelto lui l'ha fatto lui lui ha insistito ha detto non lo so secondo me possiamo fare qualcosa di meglio quindi l'abbiamo passata a fiodor a fiodor ho fatto sentire il mio primo vocal con il gong dove mi alleno e fiodor ha fatto tutta una serie di tentativi che sono come combatto quello che non vedo chiesi lui mi rispose con i piedi poi alzo una gamba al cielo contando fino a tre e vi diedo un calcio in bocca che era te adoro questo mi spaccava veramente questo genere si chiama funk però voi qui sentite solo una porzione il problema è che nella nell'economia della canzone essendo una canzone che non ha particolare groove o intensità nelle strofe questo tipo di drop rimaneva troppo piatto si perdeva tutta la frenesia la velocità che invece cercavo appunto nel drop tutto quel groove quindi inizialmente ero anche casato da questa roba poi l'ho sentita in tutta la canzone effettivamente la canzone rimaneva sempre lì era io che chiacchieravo e poi sta cosa molto più distesa non c'erano i pugni ok questa cosa non mi faceva venire in mente un combattimento dei cazzotti quindi ha fatto un altro tentativo sempre il buon fiodor è praticamente quello che conosciamo ma ci sono solo basse cioè questo è tutto quanto basso con un po di punta però rimane molto scuro e quindi poi ci abbiamo messo sopra adesso un suono ok delle alte un e questa era la versione più simile a quella che poi è stata la versione finale dove bene o male allora sono questi stessi suoni solo che abbiamo sistema di meglio e l'abbiamo appunto trovata finalmente la nostra cara karate cara karate qui abbiamo di nuovo rando a mezzo allora quello che in realtà sto cercando io è qui sotto andiamo però a vedere effettivamente questa karate com'è cioè la vera karate quella attuale andiamo un attimo a vedere il progetto parto dal dire che fiodor è stato molto felice quando gli ho mandato le voci di karate perché è solo una voce con due backing semplice non ci sono armonie non c'è niente di cantato è solamente una take unica non vi faccio vedere il progetto di registrazione perché ve lo posso descrivere e tanto è semplicissimo vi faccio vedere però il progetto originale vi faccio sentire un po di cose il progetto originale del mix quindi la versione che conoscete anche voi di karate con la voce del caro vecchio nivius vecchio un paio di coglioni allora partiamo partiamo dal basso qui abbiamo le voci e anche queste sono voci se non si certo ci fu un tempo in cui un uomo più ok sentivo degli uccellini avevo probabilmente vi dico questa piccola cosa non le senti non li sentirete mai probabilmente ma ci potrebbero essere degli uccellini nelle mie canzoni perché registro qui e ci sono sempre sti cazzo di uccellini che cinguettano quindi riusciamo a toglierli con dei plug in ma secondo me delle merdate lì in mezzo rimangono perché comunque è arte povera la nostra eravamo qui ci fu un tempo in cui un uomo più saggio di me mi rivelò una grande verità o verosario più temibile è interessante questa cosa non avevo vista deve essere un reverbero che ha messo lui ha girato la voce la riverberate ci ha messo la coda ed è questa cosa che parte prima di tutta quanta la voce di nibbius che è questa come combatto quello che non vedo chiesi lui mi rispose con i piedi poi alzo una gamba al cielo contando fino a tre e mi dedo un calcio in bocca karate molto semplice ripeto i miei karate nel no vabbè quello non ho fatto io la voce si è la mia tra l'altro questa voce lo scratch l'abbiamo fatti nel provino originale avevo detto a a matteo gli avevo detto un po di idee che avevo ma scratchiamo la parola karate facciamola ripetere strecciamola che vi vorrei anche dire come si fa però è veramente troppo tecnico e penso che non sia utile per nessuno questa cosa è totale è totale c'è in pratica prendi la voce la lunghi la gli rifai un bounce e in pratica e questa è una cosa in teoria è un errore c'è in teoria una cosa fatta male che suona così però è proprio l'effetto che volevamo quindi dovevi fare una cosa sbagliata tra virgolette per ottenere ci sono veramente pochissime backing e qui non vedete ma tipo ce n'è qualcuna doppio le finali wannabe piano b p p p p voce molto semplice lineare poi vi faccio sentire anche quello che abbiamo dovuto patire per trovare la quadra della voce di nibbius poi cos'altro abbiamo qui scopriamolo qui siamo nel drop ok questi sono i suonetti i pluck che in realtà poi mixati con il basso che invece a questo qua sopra fanno questa magica magia che conoscete cosa che avevo suggerito a fiodore che abbiamo tenuto di non fare la stessa identica cosa ritmica del basso quindi i pluck ci sono una nota si una nota no tutto un po storto perché effettivamente rende tutto meno noioso e questa intuizione che ho avuto basata un po sulla casualità e un po sul tirare indovinare che però effettivamente funge abbastanza quindi basso veramente iper semplice che fa questo tutto il tempo non fa niente di diverso quando c'è ovviamente perché poi nelle strofe non c'è mai il basso e seguo appunto quel groove iniziale del memo vocale in cui facevo quella roba lì karate bevi l'estate karate qui music ah beh qui sapori d'oriente questo è fatto tutto con arcade se qualcuno di voi produce o produrrà o conosce qualcuno che produce avevamo appena no matteo swan si era appena abbonato ad arcade e quindi abbiamo giocato lì abbiamo iniziato a cerca tutta una serie di suoni di flauti robe evocative questa è la roba che c'è sotto al drop e allora direi che quest'ultima parte vabbè la drums batterie che ci sono nei drop il merito di tutta la sonorizzazione calci pugni botte e derivati va a fiodor cioè noi l'avevamo non avevamo nemmeno inseriti nel primissimo provino fiodor qui ha proprio smattato ha avuto la visione ha detto no qua deve essere pieno di calci di suoni di cose che arrivano e infatti ci sono un po di robe e qui sotto aspetta anche no questa questa è l'unica cosa che avevamo messo io e matteo eravamo felicissimi però da qui in poi è andato fiolo ok questo è il nostro progettone quindi la canzone scomposta è così c'è un po di questo un po di quello un po di quell'altro ma la cosa che vi voglio far sentire adesso perché qualcuno di voi probabilmente è anche stato coinvolto ma non sa esattamente come sono andate le cose vi faccio sentire i vari tentativi che abbiamo fatto con Nibius e quello che ho fatto sentire ai fortunati e le fortunate di voi che sono riuscite a prendere la linea quel giorno che nelle stories di instagram ho chiesto il vostro aiuto per un parere queste che vedete sono tutte le versioni che abbiamo fatto con Davide allora partiamo da questa prima l'ascoltiamo poi vi racconto effettivamente quando e perché avversario più temibile del drago e della spada e la vita Moodinbi-san con i piedi avversario più temibile del drago e della spada e la vita Moodinbi-san allora queste sono versioni più veloci perché più veloci perché inizialmente gli ho fatto ricalcare quello che facevo io con la voce e quindi gli ho fatto sentire il mio provino e gli ho detto devi stare in questo timing babbo perché non mi sono reso conto che non essendo a tempo la canzone cioè è un parlato ma sotto non c'è la batteria nella parte iniziale avrebbe potuto parlare molto più piano quindi inizialmente abbiamo fatto un tot di tentativi in velocità abbiamo fatto questa prova che se non ricordo male è con la è con la R quindi avversario più temibile e no questo aspettate il cazzo non era assolutamente così veloce avere salio più temibile del dragoi qui invece più temibile perché lui mi ha spiegato cosa che poi sono andato a controllare anch'io però effettivamente mi aveva spiegato anche lui e si era già sentito tempo fa con un suo amico giapponese che i giapponesi tendono a mettere la R al posto della L e sì i giapponesi pronunciano la R è una cosa nostra che pensiamo che gli orientali parlino tutti che non sappiano parlare e effettivamente abbiamo fatto però due prove una in cui pronunciava questa L perché ovviamente se è più temibile magari tanta gente non lo capirà fammi anche una take con più temibile e me ne mandava me ne mandava diverse interpretazioni diversi toni qua di nuovo con la R dopodiché allora aspettate che c'è sempre warp qui abbiamo rallentato me la mandate prima con la R ecco con la R con la L dopodiché questi sono i test comprensione ovvero sia queste sono le cose che ho mandato a voi ovviamente non tutto quanto ci fu un tempo in cui un uomo più saggio di me mi rivelò una grande verità avversario più temibile delle deragù e della spada è la vita a Mudimbi San ho mandato questa parte fino a con i piedi c'era più il riverbero la voce era meno scandita ho mandato ad alcune persone la versione con la L ad altre persone la versione con la R ho raccolto le vostre risposte abbiamo fatto altre versioni più lente con meno riverbero poi abbiamo mandato di nuovo quelle con la R e quelle con la L io ovviamente volevo che vincessero quelle con la R perché più o meno a una certa ero arrivato a capire che molte persone capivano ma c'erano certe persone che non capivano cioè probabilmente non capivano l'italiano al che ho detto senti preferisco giocarmi qualcuno in più che non comprende però perlomeno fare la cosa il più fedele possibile sia a quella che potrebbe essere una pronuncia sia a quello che fa appunto Nibius sul suo profilo perciò ho detto andiamo dritti con R quindi altre versioni altre versioni altre versioni altre 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 versioni finché non abbiamo trovato la versione che ha messo abbastanza d'accordo tutti quanti abbastanza ora cosa vi mostro una piccola chicca anzi due piccole chicche molto semplici che tra l'altro questa mi ha fatto mi ha fatto veramente ridere è abbastanza una fotografia di come sia lavorare con me quello che vi mostro in questo momento sono io che ascolto per la prima volta il il nuovo drop che ha fatto Fyodor quindi io venivo dal vecchio drop Skrillex che avevamo fatto Yes One Fyodor ci ha lavorato dico vabbè vediamoci studio perché a distanza è un po' difficile vengo io da te me lo fai sentire e capiamo le correzioni vi faccio vedere tutto fino a un momento che secondo me è stato emblematico allora eccoci qui facciamo questo ascolto allora è mortato dire se stavo facendo delle modifiche non so quindi non so come se c'è qualcosa fuori posto no ci fu un tempo in cui un uomo più saggio di me mi rivelò una grande verità io sono già sfinito già per me va tutto malissimo avversario più temibile del drago della spada è la vita mudimbi sano come combatto quello che non vedo chiesi lui mi rispose con i piedi poi alzo una gamba al cielo contando fino a tre e mi dito un caccio in bocca che era lei guardate quanto è felice Fiodor guardate come la mia anima se ne sia andata cioè questa è la fotografia di come purtroppo credo sia lavorare con me cioè io sono sempre angustiato ammesso che sia una parola vera dalle cose che faccio perché sto cercando di capire se coglie effettivamente lo spirito di quello che volevo e invece Fiodor è felicissimo perché sente i pugni e i cazzotti che ha messo e quando vedo sta cosa mi dispiace di brutto perché dico oddio non vorrei essere quello che ammazza l'entusiasmo cioè questa è veramente la fotografia della mia vita persone che si divertono è io che cerco di portare tutto verso la morte ok ok madonna ti giuro io devo parlare con loro cioè secondo me si dovrebbe loro licenziare anche questa espressione di Fiodor la dice Luca cazzarola comunque vabbè qui ci sono stati un po' di commenti cose che mi ha detto quello che ha fatto quello che non ha fatto l'altro momento epico che vi faccio sentire e qui chiudiamo è questa è gioia pura ovvero sia sempre lì da Fiodor il momento in cui nel buco che vi dicevo del drop ho pensato perché me ne prendo il merito perché è stata una mia pensata mettiamoci un collo rotto un suono di qualcosa che si rompe sai tipo il sedano che usano nei film sonorizzazioni e questa è la prima volta che ce l'abbiamo piazzato e ho sentito l'effetto che ha fatto ho riso talmente tanto che ho avuto il tempo di prendere il telefono e riaccendere la fotocamera e quando l'ho sentito stavo ancora comunque on fire ragazzo che boh capisci perché io mi caso quando c'è esattamente vediamo un po' che suoni vabbè direi che con questa ci possiamo salutare credo veramente di aver detto tutto anzi sono sicuro di aver detto tutto spero che vi sia piaciuto il video grazie a tutti quelli a tutte quelle che lo hanno guardato fino a qui grazie a tutte le abbonate a tutti gli abbonati il video è finito ciao ciao